Arrivano rinforzi alle strutture dei beni culturali delle aree del sisma, l'Aquila compresa, in arrivo ci sono 12 assunzioni. Avevamo preso l'impegno di rinforzare gli organici delle strutture dei beni culturali delle regioni colpite dal sisma e lo manteniamo mettendo a disposizione nuovo personale a supporto delle attività legate alla ricostruzione. A parlare è il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito dagli eventi sismici. In legge di bilancio, ha detto Vacca, abbiamo previsto l'assegnazione di personale aggiuntivo. Si tratta di 12 persone, tra tecnici e amministrativi, che integreranno le sovrintendenze di Abruzzo, Marche, Umbria e delle province di Frosinone, Rieti e Latina per il rafforzamento di tutte quelle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali in materia ovviamente di sicurezza del patrimonio culturale. Dei 160 nuovi restauratori che hanno preso servizio a fine dicembre, ben 52 sono stati assegnati alle regioni infatti colpite dal terremoto. 7 in Abruzzo, 5 alle Marche, 3 all'Umbria, 37 a Lazio, 15 dei quali presso l'Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro. Oltre a questo vanno considerati anche il personale destinato alla sovrintendenza speciale per le aree del sisma, guidata dall'ingegneri Annelli e le risorse, per quasi 500 mila euro, stanziate con una delibera cipe per la città dell'Aquila per l'assunzione di tre unità per tre anni al segretariato regionale MIBAC. Con queste integrazioni si dà una risposta a quella che è senza dubbio una delle principali criticità, ha detto Vacca, per il settore dei beni culturali in Italia e cioè la carenza d'organico. Una carenza che abbiamo ereditato, ha sottolineato Vacca con vena polemica, dai governi precedenti e che chiaramente risulta ancora più drammatica laddove si lavora la ricostruzione post-sisma. Non ci fermeremo qui, ha detto Vacca, insieme al sottosegretario Crimi, che alla delega per le aree terremotate, continueremo a lavorare col massimo impegno per restituire alle comunità le case, i borghi, i luoghi della cultura che il terremoto ha distrutto o danneggiato.